Credo che abbiamo un bellissimo gruppo. Tanti dentro del campo come fuori. Sono bravi ragazzi e buonissimi giocatori. La voglia sicuramente a questo gruppo non manca. Più che altro è da tanto tempo che non giochiamo, che non facciamo una partita ufficiale, quindi sono sicuro che tutta la squadra ha una voglia pazzesca di giocare, di andare in campo e di cercare di rappresentare al meglio questi colori che indossiamo. La prima gara è sempre difficile, un po' di ansiedà, è sempre difficile di giocare, però abbiamo tanta voglia di iniziare a giocare e fare bene e portare i tre punti a casa. Diciamo che l'Odissea è uno degli avversari principali che avremo in questo campionato. Già l'anno scorso è stato molto difficile, sia la partita interna che quella fuori casa contro loro. Penso che sarà una partita molto difficile, ma che se tutto andrà per i versi giusti riusciremo a portare la vittoria a casa.